E' personalmente brillante quella di chiamare le persone a sottoporsi ad accertamenti sanitari preventivi mentre altri personaggi famosi e sportivi giocano a tennis di fianco, unendo insieme divertimento e salutare. Sono molto grato di chiedere la prestigione effettiva ai nostri medici della Facoltà di Medicina e Chirurgia e del Policlinico Giovelli per il lavoro che hanno fatto. Quest'anno si è incrementato l'intensità della sfida passando da 2 a 3 giorni e il numero di visite si è confermato e si è incrementato. Quindi un'opera di grande ritmo sociale che siamo orgogliosi di contribuire a forza.